Ciao a tutti ragazzi, sono Michele e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui innanzitutto per dirvi alcune cose. Come vedete indosso una maschera da sub che mi fa anche respirare male, infatti adesso la tolgerò. Come vedete qui sopra è il gancio apposito per la GoPro, non utile da poter girare video subacquei. Ma adesso la rimuovo, altrimenti muoio. Allora, poi come vedete abbiamo un chuck nuovo perché quello che avevo usato nei vecchi video si era rotto. Questo ho comprato da Tiger. Poi vi volevo solo fare questo annuncio, diciamo in questo video, per dirvi che usciranno presto innanzitutto dei vlog con il cane. Perché non so se lo sapete ma ho un cane nuovo. Poi usciranno dei vlog con gli altri animali, più dei vlog di alcuni viaggi, giri che farò. E oltretutto faremo dei video divertenti, quali purtroppo non vi posso anticipare visto che altrimenti svanirebbe l'effetto sorpresa. E poi faremo dei video dalla macchina con l'action cam collegata al parabrezza. Faremo anche dei video tutorial su come fare in particolare le candele. Questo è il primo episodio che uscirà ma ne faremo tanti altri su altre cose. E soprattutto faremo tanti video divertenti. Per adesso io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando iscrivetevi. Dìng! Dìng!